Incredibile vittoria dell'Arezzo calcio femminile che in un finale di gara convulso e ricco di emozioni e batte a 3-2, Luca e balza al secondo posto in classifica a un solo punto dalla capolista Pontedera, battuta in casa 2-1 dal Pisa. Mister Acquisti deve fare a meno di Chiodi e Torrioli e manda in campo dal primo minuto Antonelli tra i pali, Aterini, Zeghini e Teci in difesa, Serluca, Magnani, Baracchi, Renzogne e Mazzini a centrocampo, Lucarini e Paganini in attacco. Il primo tempo è da due volti con un buon avvio delle padrone di casa e un gran finale delle ospiti che si fiorano più volte il vantaggio. Nella ripresa gol, spettacoli ed emozioni, apre le danze Lucarini al decimo minuto su assist di Aterini, perfetto il diagonale del capitano Aretino che firma l'1-0. Il Luca non demorde e pareggia i conti al 22esimo, pallonetto dal limite di Bonacchi che sorprende Antonelli. Il nuovo vantaggio Aretino giunge a 8 minuti dal termine, angolo di Renzoni, respinta corta della difesa lucchese e destro vincente di Zeghini che firma il 2-1. Il Luca dimostra di essere tra le grandi del campionato e all'88esimo riequilibra il match con un tico da posizione defilata di Carrozzo che si infila nell'angolo più lontano della porta Aretina. Sembra finita ma al secondo minuto di recupero Renzoni, scatta sulla fascia e di sinistra dai 30 metri sorprende Giuffrida siglando il gol che vale vittoria, 3 punti e secondo posto in classifica. Siamo qui con mister Acquisti, mister oggi finalmente la prima vittoria fra i Muramiche venuta dopo una partita a tirare il molla. Eh, è stata una partita difficile. Secondo me la misquara ancora non ha proprio la consapevolezza della propria forza perché in questa partita l'ha dimostrato, credo, specialmente nei primi 15-20 minuti che se credono in quello che fanno, come hanno fatto, come hanno dimostrato loro si può avere obiettivi grandissimi a questo punto però bisogna crederci sempre, sempre significa anche in ogni seduta d'allenamento anche quando non ci sono gli allenamenti per raggiungere grandi risultati bisogna fare anche, tra virgolette, sacrifici però devono essere soddisfazioni perché non si può ottenere il massimo dando non il massimo, ecco. Siamo qui con il capitale Lucarini, il cuore dell'Arezzo un tuo gol ha permesso alla squadra di spianare, diciamo, il risultato come ci si sente dopo una vittoria, puntato a scadere? Ma sicuramente è stata una vittoria c'è offerta ci abbiamo messo veramente il cuore oggi anche perché comunque ci tenevamo a vincere con il nostro pubblico che ci ha fatto il tifo per tutta la partita senza mollare mai e penso che oggi abbiamo ricambiato questo gran tifo con una vittoria meritata, anche se appunto è stata sudata però credo che tutti abbiamo lottato dall'inizio alla fine chi è entrato dalla panchina abbiamo veramente dimostrato cos'è un gruppo Terzo gol stagionale, qual è il tuo obiettivo? Ma il mio, diciamo, più che un obiettivo personale è un obiettivo collettivo io ci tengo a far bene con questa squadra perché alla fine la sento la mia squadra sono molti anni che ci gioco quindi è giusto che sia un obiettivo collettivo quindi lotto per un bel gioco con le mie compagne e comunque un bel campionato Siamo qui con l'allenatore del Lucca, mister cosa non ha funzionato oggi per il Lucca, per portare a casa comunque un risultato positivo? L'approccio alla partita, ci siamo trovati di fronte e prima di tutto merita gli avversari perché hanno fatto un'ottima gara sotto tutti i punti di vista, sia agonistico, atletico e anche tattico poi abbiamo cominciato in una maniera, siamo poi cambiati abbiamo avuto le nostre occasioni e poi errori, secondo me, di concentrazione è mancata la testa giusta Ecco, è una sconfitta che mina un po' gli obiettivi del Lucca stagionali? No, no, assolutamente, noi siamo una squadra che cerchiamo di vincere il campionato però guardiamo in fondo quello che succede, siamo una squadra giovane considerate che i nostri due centrali di difesa, uno è il 98 dicembre, uno è il 99 dicembre quindi il terzino è il 95, siamo una squadra giovane come la host, come quella dell'Arezzo quindi errori anche di gioventù Grazie